Gentili telespettatori, buona giornata. Dagli Stati Uniti arriva un parere, quello di Anthony Fauci. Secondo l'esperto americano consigliere del Presidente degli Stati Uniti, Omicron ci prenderà tutti alla fine. Omicron alla fine troverà tutti grazie al suo grado di trasmissibilità senza precedenti. Anche i vaccinati saranno probabilmente infettati, compresi quelli con la terza dose, ma non finiranno in ospedale. Insomma, il Covid diventerà un virus quasi normale secondo il noto virologo americano e gli Stati Uniti sono davanti a un periodo di transizione con la pandemia, al quale seguirà una fase in cui sarà normale convivere con il Covid. Per proteggiare poi l'ondata di contagi, la Casa Bianca ha aumentato di 10 milioni il numero di test screening destinati alle scuole, in modo da poter continuare il più possibile con la didattica in presenza. Uno studio rivela che il 67% dei positivi è asintomatico e in media ha meno di 50 anni. Chi sono i positivi di oggi e che tipo di infezioni fanno i conti? Uno studio di Artemisa Lab, che con il suo team scientifico e la rete di centri sul territorio ha tracciato un identikit, emerge che la maggior parte delle persone risultate positive al virus, il 67%, è asintomatica, con un'età media inferiore ai 50 anni. Solo il 2% risulta avere sintomi severi e il 35% ha manifestato sintomi di lieve entità, quali febbre, spossatezza, mal di gola e raffreddore. Intanto in Cina riprendono i casi, ce ne sono 166 nuovi. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale del consueto bollettino quotidiano. Intanto Fixbus taglia il 30% dell'offerta, ristori o altre riduzioni. A causa dell'aggravarsi della situazione pandemica e del calo delle prenotazioni, Fixbus ha dovuto tagliare il 30% dell'offerta in Italia, già sensibilmente ridotta rispetto ai livelli pre-Covid, andando a diminuire la frequenza settimanale e giornaliera dei collegamenti anche su rotte cruciali per il network come Firenze-Bari, Bologna-Pescara, Roma-Ancona. Nella nota la società di autobus a lunga percorrenza low cost avverte che senza sostegni immediati per poter contenere e operare in modo sostenibile, la società rischia di dover ridurre ulteriormente i collegamenti. Intanto c'è anche un nuovo record in Turchia, 74.000 nuovi casi. I casi Omicron dicono che è dominante. L'ha fatto sapere il ministro della Salute, Faretti Incocca, che su Twitter ha descritto la variante Omicron come dominante e fonte di pericolo per coloro che si trovano in categorie a rischio, mettendo in guardia anziani e persone affette da malattie croniche. In dicembre i casi giornalieri si attestavano in media sui 20.000. Oltre l'83% della popolazione è vaccinata con la seconda dose, mentre nei giorni scorsi è iniziata la distribuzione dei vaccini di produzione locali, Turcovac, la cui efficacia scientifica è stata però messa seriamente in dubbio da diverse associazioni mediche turche. Intanto in Italia l'occupazione dei reparti sale al 27% e cresce in 13 regioni. A livello nazionale cresce dell'1% e arriva dal 26 al 27. La percentuale dei posti letto nei reparti ospedalieri di aria non critica con pazienti Covid. Cresce in 13 regioni il tasso. In Val d'Aosta con più 8% arriva addirittura al 54%. In Calabria arriva al 38%. In Abruzzo al 26%. In Basilicata al 21%. In Emilia Romagna al 24%. Nel Lazio al 25%. In Lombardia al 31%. Nella provincia autonoma di Trento 24%. In Piemonte 33%. In Puglia 17%. In Sardegna 13%. In Sicilia 32%. In Veneto 25%. Questi sono i dati Agenas aggiornati proprio a ieri sera, gli ultimi. Mentre in Campania è stabile al 25%. In Friuli al 28%. Nelle Marche al 25%. In Toscana al 22%. Cala in Liguria 38%. Molise 13%. Bolzano 15%. Umbria 30%. Mentre passiamo a un'altra notizia. Trieste e Gorizia sospese le attività chirurgiche. Intanto Miozzo dice 300 nuovi casi in 24 ore. E parla di un qualcosa di diverso. Ma in Germania record di oltre 80.000 casi nelle ultime 24 ore. Lo indicano i dati del Robert Koch Institute che conteggia altri 384. Negli ultimi giorni i contagi confermati erano risultati ridotti ma a fronte di dati ritenuti incompleti per il minor numero di test effettuati. L'incidenza sale al 400,7% casi per 100.000 abitanti su base settimanale rispetto al precedente rivelamento che parlava di 387,9 casi. E poi vediamo che un'altra notizia. Ieri in Italia c'è stato un nuovo trend positivo di primi dosi e booster. con circa 77.500 prime dosi di cui 48.000 minori e 22.500 primi dosi per over 50. Quasi 550.000 le terze dosi per un totale di quasi 700.000 record assoluto. Il generale Figliuolo ringrazia tutto il personale sanitario per il costante sforzo profuso a favore della salute dei nostri concittadini. Ha evidenziato le capacità espresse dalla macchina organizzativa delle regioni e delle pubbliche amministrazioni. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. E c'è anche poi l'altro canale Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie, di fai da te. È un canale più piccolo che adesso ha raggiunto quasi 11.000 iscritti. Insomma, anche lui c'è il suo perché. Ci sono meno video, ovviamente, molti meno video che posso fare perché non mi posso sdoppiare più di così. Però, insomma, dategli un'occhiata anche a questo canale. E poi questi video che trovate sui due canali di YouTube vengono poi condivisi su Facebook della pagina che si chiama Teleitalia. Bene, in modo che se vi sono interessati li potete condividere anche voi. Arrivederci a tutti e grazie.